a proposito di presepe leggenda vuole che il bù e l'asinello fossero della val sugana si tratta di un racconto recuperato dallo scandellari e poi ripreso nel libro dei misteri della val sugana nato il bambino il bù e l'asinello si avvicinarono ancor più a gesù bambino scaldandolo col profumo della fienagione della val sugana poi come tutti ben sappiamo re erode diede ordine di uccidere tutti i bambini quelli fino all'età di due anni a giuseppe apparve in sogno l'angelo che lo pregò di scappare immediatamente il bù e l'asinello che conoscevano la strada accompagnarono la natività fino alla val sugana ma i soldati di erode secondo leggenda riuscirono ad inseguirli fino fin quassù e allora arrivati nelle zone di grigno e del lago di caldonazzo i due animali sviarono gli inseguitori mentre gesù giuseppe e maria si nascosero accanto un castagno enorme questo si aprì accogliendo nel suo interno i tre e poi richiudendosi quando i soldati capirono di essere stati depistati abbandonarono ogni velleità tranne l'ultimo che scocciato scoccò una freccia proprio addosso al castagno dove si era rifugiata la famiglia di giuseppe maria e gesù il dardo trafisse la corteccia e riuscì a pungere la manina di gesù sanguinando a sua volta la goccia di sangue scivolò lungo la corteccia del castagno ed è da quella volta che le castagne di grigno e della val sugana portano al loro interno la linea rossa è la linea rossa del sangue di gesù bambino quello che a suo tempo venne scaldato da l'asinello e il bue della val sugana